Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo qua in un nuovo video Perchè bisogna aprire una cosa di Tiger Cosa troveremo? Allora speriamo non le cagli di madonna Allora apriamo sto cosa Che cosa troviamo? E' da bambino intanto Allora che cosa troviamo intanto? Allora Ok Una cosa tipo da girare Tipo per metterlo di fuori Bello Poi che cos'è? E' tipo una cover Tipo per inserire la bicicletta Poi E cos'è? Tipo Un give a maker with Boh non so che cosa sono Non sono più utili Allora Che cosa sono messi? Che cosa sono messi? Tipo Boh Vabbè Poi Tipo una cosa Carino E' tipo Delle palline Molto carino Allora Questo è scritto Buon compleanno Buon compleanno Intanto Questa qua Oh mio dio Allora E vabbè Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie.